gli emendamenti prodotti e quindi io, pur scusandomi, ma i tempi sono quelli e credo che sia necessaria questa sospensione per far sì che la Commissione si pronunci. Allora, io all'ottimismo della volontà aggiungo il pessimismo della ragione e quindi sospendo la seduta e riprendiamo alle ore 16.30. Onorevole Bianconi, prego, su che cosa? Qui il lupo perde il pelo, ma non il vizio, Presidente, perché tutte le volte sta storia noi si prontola, si prontola, lei dice che riferirà e poi si arriva qui e noi siamo sempre capa a 12. I provvedimenti li portano in aula quando sono pronti. Non si può tenere ferma l'aula perché la Commissione non è pronta. Quando è pronta la Commissione si viene in aula. Non va bene, è una cosa che è inaccettabile, è una mancanza di rispetto. Già siamo col Governo che non ci fa fare più niente più a tutte le leggi delega, più anche questa. La ringrazio. Salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto di istruzione superiore Ettore Majorana di Martina Franche e provincia di Taranto che esistono ai nostri lavori dalla Tribuna. La seduta riprende alle ore 16.30. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.